La notte di San Lorenzo chiama, Pesaro risponde presente e lo fa con una serata di candele sotto le stelle da quasi 40.000 visitatori con più di 20.000 candele a illuminare il lungomare di Pesaro, la riviera del San Bartolo, Gabicemare e Gradara. Il vento ha disturbato un po' la resistenza delle candele ma non il piacevole rituale della serata del 10 agosto in Total White. È una serata magica che caratterizza ormai l'estate pesarese da qualche anno, quest'anno tantissima gente, nonostante il vento le candele sono un oggetto molto delicato però abbiamo deciso di confermare la serata perché è una bella serata, si sta bene, il vento diciamo non aiuta, ha reso il lavoro dei volontari della Proloca ancora più impegnativo, della Proloca di Candelara, però davvero una serata molto partecipata e anche quest'anno 30-40.000 persone si sono riversate sulla Battigia, 7 km di spiaggia, in ogni stabilimento balneare che si è organizzato è pieno di gente che mangia, che cena insieme, è una serata molto semplice dove però la magia delle candele si mescola con la musica, le attività che vengono fatte e anche con la ricerca di qualche stella cadente che diciamo possa essere di buon auspicio per ognuno di noi e complessivamente anche per la nostra città. Una notte delle candele apparecchiata dal maxilavoro dei volontari della Proloca di Candelara che hanno omaggiato con le fiammelle la vittoria a Capitale della Cultura 2024. Le candele che abbiamo distribuito sia ai bagnini che abbiamo usato anche per la scritta e tutto quanto equivalgono a più di 20.000 fiammelle che abbiamo distribuito lungo il litorale di Pesaro per arrivare fino a Gabicce, Gradara e Fiorenzuola e Vallugola. I volontari che collaborano a questa realizzazione sono una quarantina tra cui abbiamo la Proloca di Candelara con i suoi volontari, la Proloca, le associazioni di Novilara, più abbiamo la Ollus, la Gulliver, più tutti i vari volontari e tra questi anche la protezione civile che ci dà sempre tutti gli anni una grande mano. Da otto anni la notte delle candele è diventato un appuntamento fisso dei pesaresi ma pure dei turisti. Nei nostri alberghi promuoviamo questa serata come una delle serate top dell'estate pesarese anche perché è molto suggestiva e attrae molto i turisti. Già da oggi pomeriggio verso le 6 ho visto già le persone passeggiare e chiedere della serata quindi è proprio un bel momento.